ciao a tutti e benvenuti in questa nuova lezione del corso di word dove tratteremo gli elenchi puntati e numerati che ci servono per rappresentare in modo efficace una lista di elementi di cose da fare oppure una serie di istruzioni e così via negli elenchi puntati le voci cominciano con un punto elenco o un simbolo a nostra scelta perciò li andremo a usare per produrre qualsiasi tipo di lista che non implichi sequenzialità tra i suoi elementi negli elenchi numerati invece le voci inizieranno con un numero o una lettera perciò li andremo a usare per evidenziare una serie di voci con ordine gerarchico cioè una sequenza logica o temporale di voci benissimo vediamo subito come si creano e cominciamo appunto con un elenco puntato quindi posizioniamo il cursore nel punto in cui vogliamo inserire l'elenco e clicchiamo sul pulsante elenchi puntati che si trova qui nel gruppo paragrafo della scheda home che abbiamo già avuto modo di esaminare nello scorso tutorial cliccando qui come vedete appare già il punto elenco quindi non ci resta altro che digitare il nostro testo per esempio primo punto premiamo invio e vi faccio notare come all'inizio della seconda riga viene automaticamente inserito il secondo punto elenco quindi scrivo un altro testo per esempio secondo punto premo invio scrivo un altro testo ancora per esempio terzo punto e così via vado a ripetere l'operazione fino a inserire tutte le voci dell'elenco quando finisco per concludere l'elenco posso premere due volte invio oppure posso andare a cliccare nuovamente sul pulsante elenchi puntati in questo modo disattivo d'elenco alla stessa maniera ci si comporta quando vogliamo inserire un elenco numerato per esempio supponiamo di voler elencare le azioni da fare in una giornata quindi posizioniamo il cursore nel punto in cui vogliamo inserire l'elenco e clicchiamo sul pulsante elenchi numerati che è questo qui accanto come vedete appare già il numeretto 1 quindi andiamo a digitare la prima azione che per esempio potrebbe essere alzarsi premiamo invio anche in questo caso vi faccio notare come all'inizio della nuova riga viene automaticamente inserito il numero 2 quindi scrivo la seconda azione per esempio fare colazione premo invio scrivo vestirsi invio uscire e così via vado a ripetere le operazioni fino a inserire tutte le voci dell'elenco benissimo la domanda che potrebbe sorgervi adesso è ma se dimentichiamo qualcosa è possibile andare ad aggiungere altre voci nell'elenco in un secondo momento la risposta è sì e vediamo subito come si fa basta posizionare il punto di inserimento del testo alla fine della voce dell'elenco che precederà quella nuova e andare a premere invio per esempio se prima del vestirsi aggiungessimo un bel lavarsi per esempio dovremmo posizionarci dopo il fare colazione e premere invio come vedete tra una voce e l'altra dell'elenco viene inserita una nuova riga numerata e così andiamo a scrivere lavarsi vi faccio notare che le voci successive a questa sono state automaticamente rinumerate quindi vestirsi diventa la quarta voce e uscire diventa la quinta voce per disattivare l'elencazione stavolta anziché andare a fare di nuovo il click sul pulsante vi faccio vedere l'altro metodo cioè premo due volte invio ed ecco che se scrivo altro tre altro testo come per esempio cose da fare al rientro per esempio questo testo non fa più parte dell'elenco numerato ora se volessi aggiungere altre voci quindi se per esempio vado a capo e riattivo l'elenco numerato scrivo un'altra cosa un'altra azione che potrebbe essere cucinare la numerazione parte dal numero 1 però cliccando su quest'icona che è apparsa qui a forma di fulmine appare un tooltip che dice opzioni correzione automatica cliccando ci su abbiamo la possibilità di continuare la numerazione e quindi se ci clicco come vedete cucinare adesso ha il numero 6 ma un'altra cosa se voglio dare una sorta di spiegazione nella riga successiva ma senza cliccare su invio perché ciò mi creerebbe una nuova voce di elenco posso premere la combinazione di tasti shift più invio e come vedete il cursore si va ad allineare alla mia voce di elenco senza crearne una nuova quindi posso scrivere tutto quello che voglio per esempio mi qui scrivo spiegazione della voce 6 a questo punto posso cliccare su invio e proseguire tranquillamente col mio elenco numerico quindi per esempio vado a scrivere mangiare poi dormire e così via perfetto perfetto altra cosa che possiamo fare è andare a personalizzare lo stile dell'elenco per farlo basta posizionarsi in una qualsiasi voce di elenco per esempio questa è andare a fare clic sulla freccia accanto ai pulsanti vabbè in questo caso elenchi puntati come vedete viene mostrata la galleria degli stili preimpostati per il punto elenco e ci basta posizionare il puntatore sopra ciascuna anteprima per vedere direttamente nel testo l'effetto finale infatti se date un occhio al nostro elenco puntato vedete che già ci da abbiamo un'anteprima del risultato quando siamo soddisfatti selezioniamo lo stile da utilizzare con un semplice clic ed immediatamente verrà applicato lo stile prescelto stessa procedura posso attuarla per lo stile numerato quindi mi posiziono in una qualsiasi voce dell'elenco numerato e vado a cliccare su questa freccetta da qui come vedete possiamo scegliere i numeri romani le lettere dell'alfabeto oppure semplicemente i numeri arabi con la parentesi tonda ok ma se tra le anteprime non esiste il formato che desideriamo è possibile definirne uno personalizzato come si fa si fa selezionando le opzioni definisci nuovo formato numero o definisci nuovo punto elenco che sarebbero queste voci qua ora in entrambi i casi si aprirà una finestra di dialogo in cui si vanno ad apportare le modifiche allo stile dell'elenco per esempio vi faccio notare come cliccando su definisci nuovo punto elenco i punti predefiniti possono essere sostituiti con un simbolo qualsiasi un'immagine o ancora con un carattere formattato in modo particolare per esempio posso scegliere di cambiare il formato prendendo per esempio il colore rosso ecco qua quindi le spunte diventano di colore rosso oppure posso scegliere sempre da definisci nuovo punto elenco di utilizzare un simbolo che ne so andiamo a utilizzare una stella ad esempio e clicco su ok e come appare la stellina oppure ancora sempre da definisci nuovo punto elenco posso scegliere di utilizzare un'immagine dalla rete oppure un'immagine che ho tra i miei file quindi scelgo da un file prendo ad esempio il mio logo clicco su inserisci poi su ok è così il logo diventa l'immagine che scandisce le mie voci in elenco benissimo a questo punto potrebbe esorgervi un'altra domanda ma se il testo è stato già scritto è solo in un secondo momento decidiamo di organizzarlo come elenco occorre cancellarlo e riscriverlo di nuovo tutto da capo la risposta è no infatti word da la possibilità di trasformare in elenco anche i testi già scritti e andiamo a vedere come si fa aprendo questo documento che contiene la ricetta del mio dolce preferito il tiramisù benissimo andiamo a formattare questa ricetta applicando alla lista degli ingredienti un elenco puntato per esempio il classico simbolo del pallino per farlo basta selezionare il testo da convertire in un elenco quindi andiamo a selezionare la lista degli ingredienti e fare clic sul pulsante elenchi puntati come vedete a ogni paragrafo del testo selezionato viene assegnato un punto elenco benissimo qui sotto abbiamo tutte le varie fasi della preparazione per ogni passaggio della preparazione andiamo ad applicare un elenco numerato che in questo caso è più consono dato che si tratta di una serie di azioni da fare in sequenza stavolta lo andiamo a fare attraverso un metodo alternativo ovvero tramite menu rapido che significa significa che mi basta andare a selezionare il testo a cui voglio applicare l'elenco numerato e poi lo vado ad applicare da questo pulsante che appare nel menu rapido come vedete abbiamo numerato tutte le fasi della preparazione con un semplice clic da quel menu perfetto prima di concludere questo tutorial vado ad aprire un altro documento che avevo preparato per parlarvi dei cosiddetti elenchi complessi cioè elenchi con più livelli e con uno stile di elencazione diverso a seconda del livello questi elenchi sono molto utili quando come in questo caso dobbiamo attribuire una numerazione a capitoli, paragrafi, sottoparagrafi e così via dicendo per esempio in questo documento abbiamo due capitoli che sono questi due scritti in maiuscolo introduzione a word e la formattazione ognuno di questi due capitoli è formato da due paragrafi questi qui scritti in grassetto operazioni di base sui documenti e operazioni di base sul testo sono i due paragrafi del primo capitolo e formattare caratteri e formattare paragrafi sono i due del secondo capitolo a loro volta questi paragrafi hanno tre sottoparagrafi ciascuno quindi sarebbe bene organizzare questo indice su più livelli di profondità perché così è un po' bruttino diciamocelo a questo scopo word ci mette a disposizione un apposito comando che si chiama elenco a più livelli cliccando sulla freccetta accanto al pulsante viene mostrata la galleria delle strutture predefinite come vedete c'è una differenziazione dei vari livelli per numeri per mescolanza di numeri e lettere ma anche per simbologia a questo punto basta semplicemente fare clic sull'anteprima corrispondente allo stile di struttura che si desidera utilizzare per esempio scegliamo questo con tutti i numeri come vedete introduzione award guadagna il numeretto 1 perfetto mi posiziono sul paragrafo operazioni di base sui documenti e vado a ricliccare sulla stessa icona ok come vedete è stato inserito il numero 2 però non è quello che voglio perché questo non è il secondo capitolo è solamente il primo paragrafo del primo capitolo quindi come faccio a dire award di distinguere il capitolo dal paragrafo ci sono tre strade la prima sarebbe quella di cliccare su cambia livello elenco che sarebbe questo la seconda sarebbe quella di fare clic sul tasto tab la terza è quella di fare clic su questo pulsante che già conosciamo che aumenta il rientro ed ecco che word ha capito che si tratta di un elenco a più livelli e ha cambiato in questo modo la numerazione quindi questo per azioni di base sui documenti è diventato 1.1 quindi questo sta a indicare che è il primo paragrafo appartenente al primo capitolo benissimo andiamo ad operare adesso sui sottoparagrafi quindi andiamo a selezionarli tutti e tre poi attiviamo il nostro elenco a più livelli che era questo e poi procediamo stavolta tramite il cambia livello elenco quindi da qui andiamo a scegliere cambia livello elenco andiamo a cliccare qui sarebbe il terzo livello e voilà abbiamo tutta la numerazione dettagliata quindi il primo sottoparagrafo ha la numerazione 1.1.1 il secondo 1.1.2 il terzo sottoparagrafo 1.1.3 alla stessa maniera continuo ad operare per il secondo sottoparagrafo quindi faccio così poi rientro e questo diventa il paragrafo 1.2 e così via in questo modo ovviamente potrei proseguire per il resto dell'indice ma preferisco siete voi di impratichirvi autonomamente a tal proposito vi invito a richiedere il pacchetto di esercizi che ho creato a corredo di questo corso lo potete fare compilando il modulo contatti del sito linkato in descrizione bene questa lezione termina qui nella prossima vedremo come utilizzare gli stili in Word intanto se questa vi è piaciuta esprimete il vostro apprezzamento tramite like o commento e per non perdervi le prossime iscrivetevi al canale ciao